Il capitolo 1024 di One Piece rappresenta un crocevia interessante per quella che dovrebbe essere l'epica saga finale di Ciro Oda. L'inizio con Morgans e il suo conflitto con Vivi sono davvero interessanti. Può giustamente sembrare ridondante il siparietto appunto di Morgans che vuole promuovere notizie false e di Vivi che invece se ne lamenta. Ma dobbiamo chiederci il perché l'autore continua a rimarcare questo tipo di scena. Perché è vero che è ridondante, ma è un ridondante in maniera casuale? Per me no. Entrambi personaggi, pur rappresentando ideali diversi e pur provenendo da mondi diversi, hanno un impatto significativo sulla narrazione di One Piece e condividono appunto dei tratti in comune. Morgans è un giornalista, ma non un giornalista qualsiasi. È il proprietario e il caporedattore del giornale mondiale più diffuso in assoluto, il World Economy News, e il suo potere risiede proprio nella capacità di manipolare le informazioni di andare a plasmare l'opinione pubblica. È ossessionato da vendere notizie sensazionali, ossessionato da aumentare la tiratura del suo giornale, disposto a distorcere la verità, a creare dei falsi scoop, il tutto pur di raggiungere questi suoi obiettivi. È insomma un maestro nell'arte della propaganda e sa come sfruttare le emozioni delle persone per andare a influenzare poi le loro opinioni. Morgans è sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare e non esita poi a schierarsi con i vincitori. È insomma un ambizioso manipolatore opportunista. Praticamente fa tutto ciò che invece Vivi odia visceralmente. Questo perché tramite l'esperienza che ha avuto con la Baroque Works e il rischio di una guerra interna dalla basta, quindi nella sua nazione, tutte queste cose l'hanno segnata profondamente. Dobbiamo infatti sempre tenere a mente che il piano di Crocodile al tempo era quello di manovrare l'opinione pubblica con notizie false. Quindi il personaggio di Vivi sa bene quali sono i danni che la mala gestione dell'informazione può andare a causare. Morgans vuole caos e conflitto. Vivi invece vuole pace e unità. Morgans si relaziona con gli altri in maniera strumentale, spesso manipolatoria. Vivi invece è empatica e si relaziona tramite fiducia e amicizia. Se quindi Vivi vuole l'informazione veritiera per andare a promuovere la pace, Morgans procede avanti a manipolazioni e a distorsioni. Questi due personaggi rappresentano insomma per me due facce della stessa identica medaglia, cioè il potere dell'informazione. Mentre Morgans lo utilizza per manipolare e dominare, Vivi lo vuole impiegare per unire le persone e promuovere la giustizia. Questo loro confronto ci mostra come la stessa risorsa può essere utilizzata sia per il bene che per il male. Questa scena e quindi l'esempio di Morgans ci fa riflettere sul potere dei media nella società e su quella che è l'importanza di un giornalismo etico e responsabile. Vivi e Morgans sono appunto entrambe figure di leadership, ma con approcci completamente diversi. Il loro confronto ci permette di riflettere sulle qualità che contraddistinguono poi anche un buon leader, sempre questo ricordando chiaramente la storia di Alabasta e il ruolo di Vivi, che ci vanno appunto a mostrare le conseguenze devastanti della guerra causata dalla disinformazione diciamo mediatica e in generale ci mostra un po' l'importanza della pace. Ma passiamo quindi dopo questa riflessione al fronte successivo. Sentomaru, la fedele guardia del corpo di Vegapunk, diciamo che per me è sempre stato un personaggio affascinante all'interno dell'universo di One Piece. La sua lealtà incrollabile verso sia lo scienziato che la marina, lo hanno reso una figura rispettata ma anche complessa. Poi il recente del radimento della marina e la tragica morte di Vegapunk rappresentano un punto di svolta fondamentale per il personaggio, quindi per Sentomaru. Questi eventi avranno quindi un impatto profondo nella sua psiche, ma a quel punto mi interrogo sulle sue future azioni. Cioè avranno quindi appunto un impatto in futuro e se sì in che modo lo avranno? Il futuro del personaggio è incerto e dipenderà chiaramente dalle scelte che farà e dagli eventi che lo circonderanno man mano che andrà avanti nel suo percorso di evoluzione del personaggio. Ne so, potrebbe cercare vendetta, potrebbe diventare un rivoluzionario, potrebbe diventare un pirata o chissà chi altro decidere di fare. Indipendentemente però dal percorso che prenderà, il suo personaggio è destinato a svolgere un ruolo importante nella saga finale di One Piece, almeno secondo me. La sua lealtà, la sua forza, la sua intelligenza lo renderanno o un avversario ostico per i protagonisti o un alleato inestimabile. Da capire chiaramente anche il futuro di Kuma e di Bonnie che potrebbero comunque legarsi al futuro di Sentomaru, che comunque ripeto potrebbe anche scegliere di vagare per il mondo alla ricerca di uno scopo, senza legarsi a nessuna fazione, senza ricomparire mai, senza fare un ciufolo. Però mi verrebbe strano d'ipotizzare questa cosa qua. Questo percorso lo renderebbe un personaggio tragico e solitario, però li permetterebbe anche di agire in piena libertà, che forse è anche più interessante come sviluppo in effetti detta così. Comunque, in conclusione di questo fronte Sentomaru è un personaggio complesso e affascinante che penso abbia ancora molto da offrire ai lettori di One Piece. Futuro pieno di incognite, ma in effetti una cosa è certa. Il suo nome, essendo li mandano a Momotaro, è troppo importante nella cultura giapponese per avere un futuro narrativo irrilevante, per cui mi aspetto un po' grandi cose da questo personaggio. Ora è, secondo me, doveroso una piccola riflessione sul rapporto tra Kizaru e Vegapunk. Oltre alle scene veramente veramente ben disegnate, mi è piaciuto un sacco il riflesso sugli occhiali pazzesco. Comunque, l'amicizia tra di loro ci ha fatto vedere un Kizaru che si lascia andare, che si abbandona le emozioni e che piange. Un aspetto affascinante e complesso che presenta una dinamica unica tra due personaggi molto diversi. Vegapunk, lo scienziato geniale visionario, completamente immerso nel mondo della ricerca dell'innovazione, in confronto a un Kizaru che, al contrario, è un ammiraglio della marina, un guerriero potente e pragmatico, più legato ai valori e alle gerarchie militari. Questa differenza, insomma, di carattere tra i due crea una mimica molto interessante perché è come se due personaggi allo stesso tempo si attraessero e si respingessero. Le loro visioni del mondo sono fondamentalmente opposte. Vegapunk è un sognatore che vuole portare avanti la scienza e l'innovazione, mentre Kizaru è un uomo di azione che crede nell'ordine e nella giustizia della marina. Il punto è che più andiamo avanti nella storia e più le alleanze e le fondamenta delle istituzioni vacillano e più a me sembra interessante la costruzione del personaggio di Kizaru. Vedere un Kizaru che piange e che rielabora molto male le vicende appena accadute potrebbero anche portarlo a un cambio di bandiera e... ma un cambio di visione completa a un certo punto? La butto là? Oda lo sta pian piano portando a un punto di rottura e mi domando come e se ci sarà effettivamente questo punto di rottura e cosa accadrà a quel punto. È comunque un rapporto contraddittorio affascinante che continua a volversi e a sorprendermi anche positivamente in quanto al lettore. Quindi carino lo sviluppo di Kizaru in questo capitolo. E questo ci porta da Kaino e al mondo che gli si sgretola sotto i piedi. Ora, noi avevamo lasciato il personaggio alle prese con la notizia che i draghi celesti stavano soffrendo la fame a causa delle azioni rivoluzionari che tramite il blocco dei porti e le cose non permettevano ai rifornimenti di arrivare. Cosa che tra l'altro rappresentava una svolta significativa nella trama. Questo evento potrebbe scatenare una serie di reazioni a catena anche a partire dagli eventi concatenati via GED. Pensate a una crisi di leadership, no? A Kaino potrebbe trovarsi a dover affrontare una crisi all'interno della marina, con, non lo so, alcuni membri che potrebbero mettere in discussione le sue politiche, la sua capacità di agire per il bene comune, oppure pensate, non lo so, all'aumento della repressione, no? Per garantire la sopravvivenza ai draghi celesti, a Kaino potrebbe andare a intensificare la repressione nei confronti dei rivoluzionari. A quel punto, cioè, coinvolgendo le nazioni, ordinando missioni punitive, aumentando le sorveglianze nelle varie nazioni affidate al governo mondiale, dando quindi molto fastidio tra coprifuoco, controllo dittatoriale di tipo militare, cose di questo tipo. Oppure avviene proprio un patatrac interno con l'idea che c'erano stessi i cavalieri degli dèi. Potrebbero emergere delle tensioni all'interno del governo mondiale, no? Quindi con alcuni membri che vorrebbero adottare una strategia più diplomatica o meno violenta per andare a risolvere la crisi. Loro magari vogliono cercare un compromesso, ma sappiamo che a Kaino i compromessi non vanno proprio 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 d'accordo. In generale comunque mi sembra che Odeby ha preso il personaggio di a Kaino come una sorta di punching ball e che stia rincarando la dose accanendosi nei suoi confronti. Cioè un po' mi dispiace, poveretto. Abbiamo una sfida sul senso di giustizia, per esempio, no? La situazione potrebbe mettere alla prova il rigido senso di giustizia morale di a Kaino, no? Che poi non è morale nel senso di la sua morale, non nel senso di giustizia morale come concetto filosofico di One Piece. Comunque insomma dovrà decidere se sacrificare determinati principi per garantire la sopravvivenza i draghi celesti o se rimanere fedele alle sue convinzioni anche di fronte a una minaccia grave e quindi un po' mandare i lamentosi in malora, quindi non so, iniziare a trucidare i draghi celesti. Con tutte le conseguenze del caso tra l'altro però perché a quel punto sarebbe veramente un panico completo. Questa crisi perenne che ho dalle coccite addosso potrebbe rappresentare un punto di svolta molto interessante per il personaggio perché potrebbe diventare più umano e comprensivo, potrebbe oppure invece radicalizzarsi ulteriormente partendo quindi ogni briciolo di empatia. Quindi a questo punto vi chiedo, secondo voi, come procederà la sua storia personale? Come sarà l'Akainu di fine opera? Ci sarà un posto per Akainu alla fine della storia dopo tutti gli eventi che dovrebbero accadere? Fatemi sapere cosa ne pensate. Il resto del capitolo invece è praticamente il primo tassello per la costruzione dell'arco narrativo di Elbaf, quindi misteri sulle comunicazioni che ha Lilith e che le spiegano cose che noi lettori ancora non sappiamo, mistero sul personaggio che aspetta il protagonista sulle coste di Elbaf, mistero sul fatto che Lilith ora è scollegata da York e quindi ora è come un Vegapunk completo di ogni emozione, di ogni necessità e probabilmente per quello, non lo so, intende che hanno mantenuto la promessa di salvare Vegapunk, cioè visto che lei appunto adesso è un Vegapunk intero con tutti i bisogni è come se avessero salvato Vegapunk, non lo so. Abbiamo avuto così poche informazioni in merito al funzionamento dei satelliti che è troppo presto per capirci, secondo me, qualcosa di concreto. E badate bene, per me è un difetto che dopo due anni ancora non siano stati spiegati i funzionamenti di personaggi che sono praticamente tutti morti malissimo nell'arco narrativo appena concluso. E comunque non mi dispiacerebbe vedere la reazione di York alla morte degli altri satelliti, sono veramente curioso di capire se si crea anche in lei una nuova visione, versione di Vegapunk o se rimane esattamente come era prima. Vorrei vederlo, anche solo per capirci qualcosa in più. Mi sento un po' tradito come lettore a non sapere ancora come funziona una delle meccaniche cardini, delle meccaniche principali dell'arco narrativo che ormai è concluso, è assurda questa cosa. Fatto sta che le ombre si allungano sull'orizzonte e la battaglia finale si avvicina sempre di più. Questo capitolo ci ha mostrato solo un assaggio di ciò che ci aspetta, le carte in tavola si mescolano ancora una volta e quindi tutto quanto in gioco nuovamente. Ma a questo punto vi chiedo, cosa ne pensate voi di questa svolta? Come sempre spazio commenti per dirmi cosa ne pensate, io non ho altro da aggiungere quindi mi rimetto a voi con uno spazio commenti per l'appunto, noi ci sentiamo o al prossimo video o alla prossima live, per cui bella a tutti!